Aveva trasformato il suo appartamento, situato nella zona sude di Francavilla al mare, in una serra dotata di tutte le più sofisticate tecnologie per la coltivazione della marijuana. A porre fine all'attività di coltivazione spaccio di sostanze stupefacenti da parte di un giovane pregiudicato, 32 anni di Francavilla, gli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i finanzieri hanno sequestrato all'interno di un appartamento oltre 4 kg di marijuana, 154 piante di cannabis, 24 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e 119 cartucce calibro 12. Oltre 4 kg di marijuana sequestrate ed un arresto effettuato. Sì, la settimana scorsa abbiamo concluso questa attività di servizio che è partita da alcune segnalazioni che avevamo ricevuto ovviamente da residenti in zona su un andirivieni un po' sospetto, un via vai diciamo anomalo in una palazzina di Francavilla. E ovviamente fatti i dovuti riscontri, appostamenti e pedinamenti poi siamo riusciti a individuare questo ragazzo, questo 32enne di Francavilla che in effetti poi all'esito dell'attività della perquisizione in casa ci ha rivelato avere una vera e propria serra avendo adebito l'abitazione con ben tre stanze a grow room come si dice in gergo per la coltivazione della canapa. Le tre stanze, ha sottolineato ancora il colonnello Luc Lauro, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria e la guardia di finanza di Vescara, erano dotate di sistemi di areazione, deumidificazione ed illuminazione artificiale. Il giovane proprietario dell'appartamento, già noto alle forze dell'ordine, aveva richiesto per la coltivazione indoor un aumento di potenza della fornitura dell'energia elettrica. Per noi è importante perché questo fenomeno della coltivazione indoor di marijuana è molto frequente, purtroppo stiamo constatando perché è evidentemente anche molto redditizio. La droga sequestrata infatti, una volta emessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 50.000 euro. All'interno dell'appartamento, come già detto, i finanzieri hanno rinvenuto in oltre 120 cartucce calibro 12 legalmente detenute. Indagini sono in corso per verificare la detenzione illegale di armi. I finanzieri lavorano per individuare gli acquirenti ed i fornitori del giovane spacciatore. L'intero appartamento è stato posto sotto sequestro su disposizione della procura di Chieti, mentre il giovane coltivatore è finito nel carcere di Madonna del Freddo a Chieti. E quindi ovviamente lo abbiamo...